Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e a questo nuovo appuntamento la regina dei rally Lancia Stratos HF, uscita numero 10, edizione Centauria 2022. Prima di procedere a vedere cosa abbiamo in questa nuova uscita e poi successivamente al montaggio, volevo farvi vedere una cosa. Quando acquistate la confezione, all'interno trovate un piccolissimo perno qui. Ecco, dovete stare attenti che non sia danneggiato. Diversamente non acquistatela. Stavo pensando come ripararlo, vabbè, se ci fossero problemi qualcuno lo trovasse danneggiato e non se ne fosse accorto prima me lo faccia sapere. Se invece avete l'abbonamento sapete che ve lo sostituiscono. Ragazzi, fate questa collezione perché è bellissima. Sì, certo, è un modello dove ci sono dei particolari che non sono stati attenzionati proprio come noi avremmo voluto. Però ho cercato di dirvi la mia. Le collezioni fatte in questa maniera devono essere rivolte a tutti, non soltanto a modellisti esperti. Però diciamoci la verità, nell'insieme, e vedrete poi il montaggio di questa parte di motore, nell'insieme il modello è stupendo. Io ho anche notato che le cinture di sicurezza, almeno da quanto ho potuto vedere, non sono un granché. Lo so. Però, ripeto, io sono contentissimo perché un modello in scala 1 a 8 con questa livrea di questo pilota e navigatore, Sandro Munari e Silvio Maiga, campione del mondo, campione del rally di Monte Carlo, in scala 1 a 8, non credo che sia così semplice trovarla a questo prezzo. Bene, andiamo avanti. All'interno troviamo due pezzi di metallo pesanti, il basamento del motore, bellissimi, verniciati benissimo. Ok? Tiriamo fuori tutto e poi vediamo cos'è contenuto. ecco, adesso lo potete vedere meglio. Mi riferivo a questo perno che è sicuramente delicato, quindi ecco, accertatevi che non sia danneggiato. Ci dice di recuperare, eccoli qua, dall'uscita numero 9 la testata anteriore, che è questa. Poi, prima di procedere, mi permetto di dirvi cosa vi può servire per questa sessione di montaggio. Un lubrificante, sicuramente un metro, un pezzo di legno per poter tagliare sopra i cavi necessari poi per le candele e lo spinterogeno, e un cutter. Io in questo caso userò una lama, voi fate attenzione a non tagliarvi, se non siete esperti usiate il cutter montato. Andiamo avanti. Ci dice di prendere questo pezzo qui e di andarlo poi a fissare con due viti DP. Chiedo scusa, vedete la mia diretta, anche se poi è indifferita. Non vi ho detto che ci sono tre serie di viti. Una AP e una DP. P finale, la lettera, vuol dire che va avvitata esclusivamente nella plastica, senza alcun tipo di lubrificante. E poi abbiamo un'altra serie di viti CM. M, la lettera M, indica che va avvitata esclusivamente nel metallo e qui possiamo usare il lubrificante. Poi abbiamo il cavo candele, gomma. Abbiamo il raccordo. Questo l'abbiamo già visto. E il fondo del basamento. Questo è il basamento del motore. La base è spinta erogeno. Un attimo. Ok. Lo spinta erogeno. E abbiamo la calotta dello spinta erogeno. Fate attenzione perché abbiamo cinque perni di uscita da una parte e tre dall'altra. Scusatemi, cinque. Abbiamo quattro perni di uscita da una parte e tre dall'altra. Poi abbiamo il sensore della pressione dell'olio. Tutto quello che avete visto in plastica, fatta eccezione per questi due qui. Adesso prendiamo la vite, come ci dicono qui, di P e andiamo a crearci il filetto sotto la testata anteriore. Questa. Come vi dico sempre, quello che fa Michele non è assolutamente obbligatorio. Io mi permetto di dirvi come monto i modelli. Voi fate quello che ritenete più giusto fare. Vi ho spiegato più volte il perché faccio questa operazione. Se avete piacere, iscrivetevi al canale. Attivate anche la campanella, così da rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. E ricordatevi che ogni mio video è sottotitolato in 26 lingue per permettere a chiunque di comprendere non soltanto le immagini ma anche ciò che io dico. Perché il canale di Michele, chi mi conosce lo sa, è nato per aiutare le persone che non sono tanto capaci, perché non hanno esperienza, a montare i modelli. E io cerco di dirvi quello che farei io e che faccio io per evitare di fare possibili danni al vostro modello. Andiamo avanti. Prendiamo adesso questo. Guardate. Qui abbiamo solo un perno che esce e qui due. Quindi lo teniamo proprio così. E andiamo a mettere questa dentro i fori. La inseriamo, vedete, da su da sola e andiamo a fissarla con le due viti di P. Fate attenzione quando fate questo lavoro a non danneggiare le plastiche dietro. Non vi deconcentrate mai da quello che fate. Tenetele così. Tenetelo così. Adesso possiamo stringere tutto. E questo lo abbiamo fatto. Guardate che bello. Poi, ecco, ci dice di montare la base dello spinterogeno e poi lo spinterogeno. Però io faccio un'altra cosa. Mi porto avanti. Il primo pezzo che ci dice di tagliare di questo tubo è di 4 centimetri. Io il primo l'ho già tagliato. Vedete? 4 centimetri. E facciamo così. Prendiamo la calotta spinterogeno e la giriamo con i 4 perni sulla destra. e andiamo a inserire e andiamo a inserire il primo cavo da 4 centimetri nel secondo perno. Così. Adesso andiamo a tagliare il secondo cavo da 5,7 millimetri. Cercate di tagliare in maniera diritta e non di traverso perché poi risultano brutti da vedersi quando verranno inseriti negli appositi perni. Abbiamo tagliato quello da 5,7 centimetri. Forse prima ho detto millimetri non me lo ricordo. Ovviamente se ho detto millimetri ho sbagliato. Sono 5,7 centimetri e andiamo ad attaccarlo a inserirlo sopra quello che abbiamo messo prima. Così. Adesso andiamo a tagliare quello da 7,3 centimetri e andremo ad inserirlo nell'ultimo perno nell'ultimo perno in alto. Ecco qua. Rimarrà quindi libero il quarto perno in basso. Poi non vi potete assolutamente sbagliare anche se le istruzioni sono spiegate in maniera eccellente perché vedete Michele vi ha fatto fare questo lavoro per semplificarvi ed evitare di danneggiare lo spinterogeno spingendo all'interno successivamente i cavi per poterli inserire correttamente perché abbiamo le tre misure ovviamente il primo andrà nella prima candela il secondo in quella di mezzo e il terzo quella più distante ma ripeto è tutto spiegato bene questo che vi ho appena detto adesso è solo un fatto di logica. Andiamo adesso a tagliare un altro pezzo da 6,5 cm e lo andremo a inserire nel perno in basso ecco qua possiamo girare pagina andiamo adesso a tagliare un altro cavo da 8 cm ho preferito farvi vedere tutti i passaggi avrei potuto anche prepararmeli prima però ho scelto di fare così spero che possa aver fatto la scelta giusta per voi e andiamo ad inserirlo nel perno in mezzo e infine l'ultimo da 10 cm lo andremo lo andremo a inserire nell'unico rimasto libero ecco qua ecco qua anche qui anche se tutto è spiegato nelle istruzioni capirete da voi che il più corto va al primo alla prima candela il secondo al centro e il terzo all'ultima adesso abbiamo fatto questo qua abbiamo un perno libero che ci servirà successivamente adesso in questa sessione di montaggio rimane così conservatevi il cavo che avete avanzato a questo punto possiamo levare il metro questo e la lama del cutter torniamo indietro questo lo mettiamo da parte ci dice di prendere la testata la testata posteriore che avevamo montato nell'uscita numero 9 e di andare a procurarci una vite AP un attimo solo ok inseriamo questa non potete sbagliarvi perché ha il perno a mezzaluna e quindi anche l'incastro a mezzaluna prendiamo una vite AP e ci creiamo il filetto adesso prendiamo questo e andiamo a inserirlo all'interno in questa maniera anche qui avremo il perno che è più lungo e che servirà ad incastrarsi vedete in questo intaglio sempre a mezzaluna state attenti a non danneggiare le pipette delle candele le pipette delle candele mi raccomando allora così non mi piace devo capire cos'è successo leviamo allora inseriamolo così e vediamo ecco vedete fate prima entrare questo lui si adatta bene lo sfilate rimettete dentro questo ecco così deve stare deve rimanere una luce uguale su tutta la circonferenza e andiamo a bloccare con la vite AP a questo punto prendiamo la calotta spinterogeno con tutti i nostri cavi per le candele e andiamo a inserirla in questa maniera con i quattro chiedo scusa così con i quattro cavi a destra e ovviamente i rimanenti tre a sinistra e è bello che l'ho anche detto i quattro cavi a destra e tre a sinistra e poi Michele lo mette al contrario a parte che non potete sbagliarvi perché un perno è più largo dell'altro ecco perché me ne sono accorto ok e fate così perfetto guardate come prende forma questo motore bellissimo a questo punto recuperiamo di nuovo il pezzo che abbiamo assemblato all'inizio prendiamo questo ecco qui e lo andiamo a mettere qua che abbiamo un foro con la mezzaluna e qui il perno con la mezzaluna state attenti a questo perno sottile quindi facciamo così deve inserirsi tutto qui non deve esserci alcun tipo di spazio tra il metallo e la plastica così perfetto andiamo adesso a recuperare l'altra questa qui ma andiamo a passarci prima la vite di P e ci creiamo il filetto come abbiamo fatto nella testata appena montata prima ok eccoci qua a questo punto prendiamo questa e la mettiamo così vedete sempre con delicatezza non dobbiamo avere fretta la inserite sempre attenzione alle candele la mettete giù così e controllate perché deve essere già perfetta così e andiamo a fissarla con le due viti di P che è bello questo modello ma quanto no cosa sto facendo qua ah sì giusto quanto è bello ecco eccoci qua stiamo quasi arrivando alla fine del montaggio poi tenendo sempre il pezzo così andiamo a recuperare tutto il gruppo carburatori e filtro sì stavo scusate sapete che Michele parla e legge e cerca di semplificarvi il lavoro andiamo adesso a crearci con la vite di P anche i filetti qui qua allora va anche messo questo però come potete vedere lo possiamo mettere anche in questa maniera qui qua abbiamo sempre il perno a mezzaluna con ovviamente la sede dedicata a mezzaluna quindi non vi potete sbagliare ecco qua ma quanto mi piace allora torniamo a noi mi creo i filetti non mi stancherò mai di dirvelo quando prendete il pezzo in mano dovete pensare a quello che state facendo perché se schiacciate qua danneggiate la retina se schiacciate qua rompete i perni della plastica quindi fate sempre attenzione dovete sempre avere un punto sicuro per poterlo lavorare senza danneggiarlo questa è molto più dura è molto più dura questa plastica della plastica che abbiamo filettato prima della testata ecco qua pulite perfetto poi prendiamo questo così perfetto e andiamo a metterlo sopra in questa maniera che perfezione combacia tutto bene tutto bene andiamo a fissare tutto con le due viti di P puntiamone una e mettiamo l'altra prima di stringere controlliamo che tutto sia a posto fate attenzione che tutto deve essere inserito correttamente parlo dei perni qua sotto che si inseriscono dentro il basamento ecco qua adesso ci dice di prendere il fondo del basamento e dobbiamo andarlo a mettere in questa maniera vedete per fare questo è necessario procurarsi due viti cm quindi io l'ho già fatto così recupero un minuto e faccio il video un po' più breve e non vi annoio però voi ragazzi mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi al canale e di attivare la campanella ho anche quattro gruppi su facebook ovviamente della lanciastratos uno della citroen due cavalli charleston uno della for gran torino di star schiacce uno di iron man e a breve ci sarà anche robocop andiamo a crearci il filetto con le viti cm qua e qua con il lubrificante io vi ho appena detto che l'ho già fatto quindi una volta che avete creato il filetto andiamo a chiudere anche questo pezzo girate il cacciavite al contrario e sentite il clac sentito e avvitate controllate sempre che tutto sia perfettamente allineato e poi stringete ecco qua e adesso guardate se volete date un'occhiata alle istruzioni se no non c'è niente di più semplice la più corta va alla prima candela e non vi potete sbagliare con tutte le altre non vi potete sbagliare con tutte le altre Michele oggi non c'è con la testa micheluzzo micheluzzo oh signor ragazzi grazie perché mi state aiutando a far crescere il canale e a dare lui continua vita guardate che meraviglia cioè io non dico niente cosa devo dire Michele ha fatto un errore che errore che ha fatto Michele però vediamo se sono fortunato non smonto nulla guardate l'errore che ha fatto Michele e speriamo che l'abbia fatto solo Michele questo pezzo qua questo vedete va inserito in questo foro se è passante lo recupero altrimenti devo smontarlo vediamo un po' vediamo se è passante si ce la dovrei fare senza smontare nulla vediamo un po' di pazienza ecco qua adesso vi faccio vedere anche a voi ecco qua questo va inserito qua ecco vedete che c'è il perno che esce e Michele lo aveva trascurato vi chiedo scusa però niente di irrecuperabile potete fare la stessa cosa voi se vi siete dimenticati anche voi bene ragazzi cosa vi devo dire guardate che cosa c'è qua abbiamo finito questo montaggio prende corpo questa Lanciastratos meravigliosa guardate cosa c'è qua adesso sfoglio un attimo la rivista così chi ha piacere può dare lettura di quanto è scritto poi peseremo questa parte del modello vi dirò cosa pesa e poi andremo a fare una rappresentazione di tutto quello che abbiamo montato fino a questo numero 10 eccolo qua di questa meravigliosa auto da corsa è la regina dei rally ma è la macchina da rally migliore del mondo questa è stata concepita solo per quello a dopo ragazzi ed eccoci qua andiamo a pesare questo pezzo e pesa 163 grammi che per i nostri amici americani e inglesi il peso è questo bene adesso procediamo per chi avrà piacere a dare lettura e prendere visione di tutto l'interno del fascicolo e poi nella terza e ultima parte di questo video faremo la rappresentazione di tutto quello che abbiamo montato prima seconda pagina di copertina numeri utili e servizi speriamo che il video non si interrompa per la poca memoria disponibile se questo dovesse accadere vi saluto anche adesso e vi ringrazio di tutto il tempo che mi dedicate delle iscrizioni e delle visualizzazioni se avete piacere potete anche condividere nei gruppi dedicati i miei video di tutto quello che per voi può essere interessante e che è contenuto nel mio canale dove potrete trovare la playlist con tutti i modelli che fino a oggi sto costruendo ecco qua ultima pagina e poi andiamo a vedere dove siamo arrivati con il montaggio di questa meravigliosa iconica auto da corsa restate con me e ci vediamo a breve ed ecco qua lo spettacolo in persona una macchina meravigliosa guardate che ruota campagnolo cerchione in metallo ruote con il battistrada scolpito i marchi le misure volante in metallo verniciato calotta coprifari secondari eccoli qua che saranno tutti illuminabili con i led che abbiamo inserito all'interno e il cavetto che poi andrà inserito qui che prenderà l'alimentazione da tutti i vari cavi mentre invece questo è per l'illuminazione dei fari primari una e due questi purtroppo non saranno attivi come neanche le frecce peccato però che dirvi questa livrealitalia verniciata non sono dei calcomanie è bellissima la placchetta in alluminio verniciato stupenda i contorni delle righe senza la minima sbavatura tra verde e bianco rettina in metallo mitica targa di Torino i ganci che poi serviranno con gli elastici a tenere la calotta copri fari secondari il motore guardate che spettacolo che bello che bello io sono contentissimo si era capito ah ecco una cosa me ne accorgo adesso e poi andrò a smontarlo controllate che il filtro non so se si vede si è in linea con le due testate vedete che è un po' girata in là va adrizzato così poi lo andrò a svitare e lo metterò a posto bene ragazzi io vi ringrazio del vostro tempo volevo solo farvi vedere questo così ah ah donna ma che cos'è quest'auto vi ringrazio del vostro tempo grazie ragazzi di permettermi di andare avanti con il mio canale che tanto amo perché ho così piacere quando leggo i vostri commenti dove mi ringraziate per l'aiuto che vi do ed è questo il senso non divento ricco certo non vivo di questo ve lo garantisco tutt'altro però sono veramente contento dell'attenzione che ho ricevuto e che ricevo sinceramente per come faccio i video io non credevo però come vi ho sempre detto guardate i contenuti e se vi possono essere d'aiuto aiutatemi anche voi con le iscrizioni un abbraccio ragazzi un abbraccio a voi con tutto il mio cuore un saluto a tutti i vostri cari più cari vi auguro un sereno proseguo di giornata e arrivederci al prossimo video ciao